Sole e bella neve. Centinaia di sciatori sono stati richiamati sulle piste da sci di Camiglietta e lo Silano nella Sila Cosentina, complici le abbondanti nevicate tra sabato e domenica. I calabresi non hanno perso tempo e già dal mattino presto hanno infilato gli scarponi, messo gli sci e passato l'intera giornata sugli impianti. Le continue spolverate di neve fresca hanno reso i tracciati soffici, facili da sciare e divertenti, permettendo un ottimo risultato di passaggi e incassi. A coloro che non sanno ancora sciare ci hanno pensato gli istruttori, che hanno lavorato tutto il giorno con corsi per singoli sciatori o per gruppi. Soddisfatti i commercianti, che noleggiano o vendono attrezzatura per gli sport invernali. Anche i rifugi in quota sono stati presi d'assalto, tanti hanno approfittato dei punti di storo per pranzare tra una discesa e l'altra. Numerosi poi sono stati coloro che anche senza gli sci sono saliti nei rifugi per prendere il sole e godere del panorama. Rosaria Giovannone per la C News 24